Ciao ragazzi, bentornati con questo appuntamento esclusivo di Calcio Mercatoro perché è successo qualcosina nella giornata di ieri c'è stata l'ufficialità del passaggio in prestito di Iago al Benevento un po' mi dispiace perché comunque so che ormai ha dato quello che poteva dare sappiamo che non poteva più dare molto al toro soprattutto però mi dispiace che sia stato trattato così negli ultimi due anni perché soprattutto l'anno scorso secondo me qualcosina in più poteva fare nel senso per noi, poteva darci una mano hanno preferito darlo via e me ne sono dispiaciuto già l'anno scorso al Genoa adesso con il Benevento diciamo che mi rendo conto che ormai sia a fine carriera anche per problemi fisici quindi non imputabili a lui forse l'errore della società è stato quello di fargli un contratto troppo lungo questo sì poi ci sono state diverse voci su ormai un affare che pare addirittura d'arrivo cioè quello di Gaston Ramirez che io se devo dire la verità non impazzisco per questo nome anche perché ormai va per i 30 anni la Sondoria cederebbe per 3-4 milioni di euro perché poi va in scadenza ma mi sembra un profilo eccezionale cioè uno di quei giocatori molto discontinui che fa una partita buona poi per due sparisce io l'avevo definito qualche mese fa non so se vi ricordate un pulcino bagnato nel senso che si tira proprio indietro in alcune partite non lo vedi a dire la verità avevamo gli Aic ed era secondo me mille volte meglio tecnicamente incideva molto molto di più nelle partite a volte le spaccava proprio però vabbè diciamo che per come siamo messi va bene va bene anche lui a questo punto rimane il rebus dell'attaccante però perché Zazza è sulle croste ancora ce lo dobbiamo tenere perché comunque non lo vogliono dar via perché sarebbe una minusvalenza quindi o ce lo teniamo o troviamo qualcuno che è pazzo che se lo possa prendere oppure come qualcuno vociferava si potrebbe addirittura pensare che Verdi diventi la spalla diciamo di Belotti Zazza in panchina e Gaston Ramirez dietro loro due può darsi può essere anche questo c'è di fatto che a Belotti piace Zazza come partner d'attacco il problema è che Zazza è scarso quindi ci vorrebbe qualcuno come Zazza ma più forte nel senso con le stesse caratteristiche sue che possa servire Belotti possa aiutarlo ma che sia in grado di fargli un assist a tre metri come era successo contro la Fiorentina Gio Pedro penso che sia tramontata quell'ipotesi perché il Cagliari vuole troppi soldi per un giocatore che anche lì va verso i 30 anni secondo me Cairo non investirebbe mai tutti quei soldi per una seconda punta si è parlato un po' di King questo giocatore norvegese del Bornemouth però sono state più che altro voci in realtà secondo me non c'è mai stato un vero interesse per questo giocatore che potrebbe fare al caso nostro sinceramente sia per età che per stipendio che per tutto per valore del cartellino che non sarebbe elevato però secondo me non c'è nulla di vero in queste voci e per quanto riguarda Torreira sembrava fatta per l'Atletico Madrid ma adesso sembra che ci siano stati dei rallentamenti pure lì quindi sinceramente mi sto stufando di questa telenovela regata al regista cioè di fatto che sta di fatto che ne abbiamo bisogno come il pane quindi Torreira non Torreira noi abbiamo bisogno di un regista assolutamente e non so come andrà a finire perché ho l'impressione che poi alla fine se si dovesse prendere veramente Shone magari è già bloccato nel senso lo blocchiamo poi nel caso si se si prendere Torreira bene se no si birra su Shone definitivamente ma non mi farebbe assolutamente impazzire però per non vedere Rincon in quel ruolo va bene va bene anche Shone guardate come ci hanno ridotto ma è ovvio quando arrivi a fine calciomercato è normale quando si sono sfumati tutti gli obiettivi che avevi per male che poi vai a ravanare nell'umido e poi dopo anche la merda ti sembra cioccolata scusatemi però è la verità è proprio così e poi ho sentito ieri una voce che non so quanto sia attendibile che vorrebbe Bremer uno scambio Bremer-Praeth in più con Izzo alla Fiorentina il che vorrebbe dire anche Andersen dentro dal Lione però secondo me sarebbero troppi incassi troppi movimenti da fare in sette giorni cioè una roba che Cairo non ha mai fatto se non nel 2010 quando non so se vi ricordate ci fu quella epurazione del gennaio 2010 però cioè qua si tratta di fare una squadra che debba competere in Serie A non che debba andare in Serie B che debba giocare in Serie B quindi è un tantinello più difficile ecco e in più Bremer io non lo cederei almeno per quest'anno poi i nostri geni al comando faranno le loro valutazioni però secondo me non si deve assolutamente cedere questo è tutto vogliono farci inventare insomma la Sampdoria invece che il Toro Praet Torreira Ramirez Murru ragazzi non parliamo di uno squadrone parliamo della Sampdoria cioè qua non lo so Giampaolo conosce solo sti giocatori mi vengono veramente tanti tanti dubbi ragazzi via questo allenatore comunque ragazzi questo è tutto io vi saluto vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto tra l'altro non si sa ancora se la partita contro il Genoa si giocherà perché ci sono stati 14 positivi al covid tra le squadre rosso-blu quindi vedremo un attimo tanto ci aggiorniamo grazie a tutti e ciao